volano via veloci portati in alto dal vento come veloci se ne sono andate le tante persone colpite dal virus e volate in cielo senza neanche aver avuto la possibilità di un ultimo abbraccio con i propri cari così a sesto elevante sede del più importante reparto covid del territorio si è voluto celebrare la memoria delle vittime del coronavirus in questo anno di pandemia un momento breve e toccante vissuto davanti al palazzo comunale con alcuni parenti e familiari i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale dopo il saluto del sindaco la lettura di un breve testo commemorativo da parte di chi ha combattuto in prima linea sia in ospedale sia nelle pubbliche assistenze anche sto paura di rispondere e sentire invece quella felibile frase pronunciata oggi siamo qua per ricordare le persone che non ce l'hanno fatta e queste rimangono nel nostro cuore questa cosa ci ha stravolto per sempre ma l'importante è ricordare oggi che queste persone che non ce l'hanno fatta non sono mai state lasciate sole hanno avuto fino all'ultimo una parola di conforto anche se non avevano vicini loro familiari aveva avevano noi e non li abbiamo mai lasciati soli fino alla fine li abbiamo curati come abbiamo potuto abbiamo fatto l'impossibile per loro e li portiamo sempre nel cuore questo sì signora lei ha perso suo marito è successo il 3 di gennaio e lui purtroppo l'ha preso nell'ospedale a lavagna era ricoverato in medicina c'era un positivo e non gliel'hanno neanche detto perché per la privacy non si può è stato questo qua che ha avvisato mio marito però ce l'hanno tenuto tutto il giorno perciò è stato lì poi l'ha mandata a casa con l'isolamento fiduciario abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto ma invece l'aveva preso e poi è stato qui a Sessi qui a Sessi sono di una umanità proprio veramente ci telefonavano ci davano notizie però lui l'abbiamo sentito per qualche giorno poi per una settimana non l'abbiamo più sentito lo ha anche avuto modo di non poterlo salutare e la cosa credetevi che è una cosa che ti rimane nel cuore che ti prende una rabbia di dire chissà quante volte ci ha chiamato chissà quante volte ha pensato alle sue nipote che non le vedeva più e questa è una cosa tutte le morti sono brutte perché sono tutte brutte però questa è una cosa proprio straziante veramente quando la sentivo in televisione dicevo povera gente invece quando si ci passa uno se ne rende veramente conto grazie a tutti grazie a tutti